Eccoci qui al BNL di Cordenosa per Qualificazioni con un altro semifinalista, Savoldi, Alessio, complimenti, come è andata la partita? Bene, bene, ho giocato bene oggi con un avversario tosto e ho mantenuto sempre concentrazione alta, un'intensità alta e sono riuscito a portarla a casa. Sì, complimenti perché Nicola è veramente un avversario tosto. Domani semifinale con Viola, come ti senti in merito, insomma, ex cento al mondo? Esatto, non ho mai giocato, non lo conosco bene, non ho niente da perdere, giocherò bello sciolto e vediamo. Lascia andare il tuo rovescio meraviglioso. E dopo Cordenosa cosa farai, quali sono i tuoi progetti tennistici? Allora, dopo Cordenosa c'è l'ultimo BNL a Milano e poi penso di andare a giocare qualche Futures prima della Serie B. Bene, dai, allora in bocca al lupo per tutto, per domani e complimenti ancora. Grazie mille.